Ti sei meritato il massimo dei voti, Kuno. Aspetta, adesso ti tiriamo su! Morai! Ehi, questo sì che è divertente! Chi è il prossimo di voi che si cimenterà nel bungee jumping dal Bay Bridge? Aspetta un momento, che stai facendo, Doraemon? Eh? Ma che domande fai? Adesso tocca a uno del vostro gruppo saltare, va rispettato l'ordine. Ma che cavolo stai dicendo? Se è uno scherzo non mi piace! Non fare stupidaggini, Doraemon! Chi è questo Doraemon? Io non lo conosco! Che cosa? Ma che sta facendo? Sono venuto qui per salvare Yulia da voi, dannate canaglie! Il mio nome è Kanshiro! Non direi diossie! Ammazziamolo! È un mostro! Il mio nome è Kanshiro! Grazie a tutti.